Sì, intanto ringrazio tutti e tutte per i molti stimoli importanti su cui dobbiamo cominciare a ragionare in maniera sempre più approfondita e soprattutto con uno spirito che mi sento di dire che le nostre battaglie contro i cambiamenti climatici e per la giustizia sociale dobbiamo sempre davvero mettere insieme questi due elementi che sono fondamentali perché si parla di lotta di classe, per cui detto così sembra semplice, dopodiché giustamente agli interventi io dico una cosa, dal punto di vista personale e politico dico che la radicalità dello scontro in atto diciamo tra il capitale e la vita è insito, è nel DNA perché la posta in gioco è la vita stessa, è la riproduzione sociale, è la riproduzione delle nostre forme di vita e del rapporto con la natura, per cui siamo giunti proprio a un elemento fondamentale della crisi da una parte del capitalismo globale, della sua governance e dal nostro punto di vista soggettivo delle lotte sociali eccetera eccetera eccetera. Bene detto questo dico il mondo ambiente in cui noi viviamo, il mondo ambiente ecologico in cui viviamo è interconnesso, ci sono collegamenti, per cui l'inquinamento delle acque, dei fiumi, dell'aria, della terra, sono interconnessi tra di loro, perché viviamo in uno stesso mondo ambiente che è questo e che fa parte della riproduzione della nostra esistenza, della nostra vita. Bene, se questo è vero è chiaro che ci deve essere anche un parallelismo delle lotte, cioè le lotte sempre di più devono diventare interconnesse tra di loro, questo è stato detto in molti ragionamenti che abbiamo fatto finora, che sono ragionamenti fondamentali, sono interconnesse. Ma allora il problema non è tanto la vecchia problematica del che fare, ma come farlo, come organizzare le lotte, come costruire un processo di ricomposizione tra le lotte stesse. E le carovane, guardate, sono un elemento fondamentale che racchiude in sé una molteplicità di significati, ma che noi dobbiamo cogliere l'elemento simbolico di un tentativo, di una sperimentazione, di un lavoratorio proprio per fare questo, per interconnettere le lotte tra i loro. E quindi, su questo piano, la comprensione che sempre più stiamo assumendo è che nessuno può niente da solo, che assolutamente, assolutamente, il particolare e il generale, o il locale e il globale, chiamiamolo come vogliamo, sono un circolo, devono diventare per noi, un circolo virtuoso. Cioè, il globale ci dà l'opportunità che tutte queste lotte siano tra di loro interconnesse, ma anche da un punto di vista proprio teorico e pratico. Cioè, e dall'altro, dall'altro lato, questa globalizzazione delle lotte, no, aiuta ogni comitato locale particolare, anche quelli più deboli, anche quelli magari che, cioè, hanno pochi strumenti organizzativi, hanno pochi strumenti, diciamo, per poter sviluppare le loro battaglie nella maniera più radicale possibile contro il potere. Cioè, ma è questo circolo virtuoso che le carovane tentano di fare, è un grande esperimento di inchiesta. Una volta la si chiamava inchiesta operaia nelle fabbriche fordiste, oggi la chiamiamo inchiesta sociale, la chiamiamo l'inchiesta, cioè, come relazione nelle lotte e nella costruzione delle lotte, nel loro rafforzamento, proprio per poter battere, combattere, creare rapporti di forza con il potere, per creare contropotere. Cioè, questo è, mi sembra, un elemento che sta nel DNA di tutti i ragionamenti che stiamo facendo. Detto questo, per quanto riguarda, cioè, quindi, cioè, a volte ci sfighiamo perché magari il comitatino locale, i comitati locali, che fanno tante cose, c'è una ricchezza, una molteplicità in questo paese, è enorme, è enorme, anche nel nostro territorio, in tutti gli altri territori, e non sono solo le grandi tematiche, grandi navi, in ottave, eccetera, sono una molteplicità di situazioni territoriali. Dobbiamo cercare di costruire una relazione e un rapporto affinché tutte queste possano trovare la forma per potersi organizzare e rappresentare, per aumentare la potenza e quindi superare il concetto di potenzialità e raggiungere una questione di potenza. Noi abbiamo bisogno di potenza oggi, di aspettare la potenza, relativamente alle circostanze, è chiaro, non siamo velitari, utopici, eccetera, ma come è stato nel G20 a Venezia. Cioè, noi abbiamo dimostrato che è possibile resistere, organizzarci e contrastare il potere, per quanto possibile, rispetto a un divieto fascista che è quello della zona rossa. Cioè, noi dobbiamo cercare di capire che questo è un messaggio, è un messaggio che è forte, forte, è possibile, è possibile. Bene, detto questo, allora, all'interno della rete fuori del fossile e soprattutto su proposta dei not-up di Brindisi, viene lanciato un campeggio a Ostuni, che peraltro magari invitiamo tutti perché è bellissima, per cui, insomma, in ogni caso è una località splendida, cioè con mare splendido, ma al di là di questo ha un significato politico enorme, nel senso che è un passaggio fondamentale per cercare di raccordare il concetto della carovana, in quanto tale, tra nord e sud. Cioè, noi dobbiamo trovare il sistema per riuscire a relazionarci e entrare in gioco anche lì, su questo terreno, perché ci sono delle questioni strategiche. Uno è l'ilva di Taranta, l'altro è Roslam, è Brindisi, eccetera, è tutta la questione dei gasodotti, eccetera. Quindi io inviterei veramente tutti, tutti quelli che possono, chiaramente ci sono tante altre cose importanti, fondamentali, però a partecipare a questo, perché politicamente è un discorso rilevante e importante. Se vogliamo costruire, per carità, non mi azzardo a dire un movimento nazionale, anche perché noi abbiamo tre gambe, abbiamo la territorialità, abbiamo chiaramente anche l'esigenza di costruire una grande forza. Ti devo chiedere proprio di andare a concludere. Concludo, a livello nazionale, nazionale, e l'altra gamba è chiaramente quella internazionale. Ricordo che l'evento di Venezia è stato ripreso immediatamente, visto la circolarità e l'immediatezza della comunicazione, anche in Germania, nei giornali tedeschi. Quindi abbiamo queste tre gambe. Bene, curiamo quelle territoriali, chiaro, però puntiamo anche a costruire una mobilitazione nazionale quando sarà il momento nella costruzione. e infine, dal punto di vista locale, ricordo l'invito di Marzia di partecipare per i compagni e le compagnie del Veneto, chi può, ovviamente, viste anche tante altre cose che facciamo, alla manifestazione ad Arzignano sabato 17. È un'occasione importante anche appunto per quello che si diceva prima, insomma, far sì che la carovana viva nello spirito e nelle capacità di articolarla in tutti i territori. Scusate. Scusate.